Federico Maggioni, sei uno studente e troviamo qui a Rimini questa stupenda moto della quale vogliamo sapere delle spiegazioni. Ciao! Ciao, grazie. Allora, io sono Federico Maggioni del team Impulse Modena Racing dell'Università di Modena Reggio Emilia. Siamo qua di fianco alla Thunder Zero, una moto completamente elettrica ed è il nostro primo prototipo del primo team italiano di Moto Student Electric costituito da diversi studenti dell'Università di Modena e vogliamo tutti quanti competere alla competizione della Moto Student organizzata alla Dorna in Spagna ad Aragon e ovviamente cercando di portare un prototipo di alto livello e alto contenuto tecnico ed è per questo che siamo qui alle V-Show ospiti di sistemi fotovoltaici. Ecco, Modena è terra di motori, ma adesso non soltanto termici, anche elettrici e la prima cosa che ti chiedo è come è venuta questa idea? L'idea è nata proprio dall'impulso di fare un prototipo che sia di alte prestazioni e innovativo. Noi vogliamo specializzarci in quello che sarà secondo noi la tecnologia del futuro, ovvero l'elettrico. Crediamo fortemente nelle prestazioni di questi motori, di questi powertrain, proprio perché li abbiamo collaudati sui nostri banchi, abbiamo costruito dei banchi per collaudare le batterie, il motore e altre caratteristiche della moto e cerchiamo ovviamente di portarli in pista per dimostrare concretamente quali sono le reali prestazioni, così come durante le nostre giornate di test drive, come l'evento Electric Revolution che abbiamo tenuto presso il Tecnopolo di Modena e noi cerchiamo sempre di muoverci per dimostrare concretamente quali sono le reali prestazioni di una moto elettrica. Cosa ci puoi raccontare della tecnica di questa moto che vediamo qui alle nostre spalle? La tecnica della moto è un po' segreta, diciamo che finché non si arriverà ad Aragon sarà difficile svelare tutti i trucchi, però... In versione motociclistica, esatto, la competizione. Motociclistica, competizione, sicuramente è molto innovativa perché la competizione vincola solo il motore, cerchi e gomme che sono cerchi e gomme della Moto3, quindi sicuramente di altre prestazioni, abbiamo un'innovazione sul telaio che sarà sicuramente più leggero anche con uno shape diverso dalla classica moto che si conosce a combustione perché deve alloggiare un sistema completamente innovativo e libero dal nostro punto di vista progettuale. Abbiamo molta libertà in questo, faremo molti studi e li stiamo facendo sul raffreddamento del powertrain, l'aerodinamica, tutto ciò che compione il motore elettrico e non solo anche tutta la ciclistica, abbiamo un reparto dedicato al telaio e alla dinamica, grazie a supporto del nostro Facultadvisor Silvio Sorrentino che è proprio uno specializzato nell'ambito della dinamica del veicolo. In uno dei luoghi, e questo ci è saltato all'occhio subito, c'è scritto Dorna, ben visibile, qual è il rapporto con Dorna? Il rapporto con Dorna è che insieme al MEF organizzano l'evento che è la Moto Student, chiaramente una competizione mondiale, ci sono più di 30 squadre, solo dell'elettrico, quindi è una competizione molto di alto livello, Dorna sta promuovendo tantissimo questo tipo di competizione proprio perché il futuro è già snocciolato con il 2019, le competizioni delle moto elettriche, noi essendo gli unici a partire subito con questo progetto crediamo che sia possibile portarlo anche in Italia, stiamo sicuramente progettando qualcosa per portare nel nostro territorio, soprattutto nella Motor Valley, una competizione di moto elettriche che darà visibilità a questa nuova soluzione tecnologica. Chiariamo una cosa però, questa moto non è parte del progetto di Spelletta di portare insieme alla MotoGP le moto elettriche, è un'altra cosa? Assolutamente sì, è un progetto dedicato solo agli studenti per dare possibilità agli studenti non solo di ingegneria ma anche di economia, di altre facoltà, nel nostro team abbiamo sette corsi di laurea diverse, ragazzi provenienti da altri corsi, quindi per dare competenza alla formazione, fare quella logica del learn by doing e portarsi a casa un po' di esperienza, un po' di know-how su queste che sono queste tecnologie, poi chiaramente ci si prepara quello che potrebbe essere il futuro come la competizione di moto elettriche monomarca annunciata dalla Dorna, poi speriamo che si realizzi. Ok, io ti ringrazio e con EletriMotoNews chiaramente saremo ben contenti di poter vedere e poter coprire qualche gara di moto elettriche, sicuramente il nostro collaboratore Simone Rambaldi che è è un tecnico dedicato ai veicoli elettrici e va in moto, elettrica naturalmente, sarà più che contento di conoscerlo. Ora lo aspettiamo presso il nostro dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari a Modena, ti aspettiamo anche in pista a Marzaglia presso l'autodromo di Modena per provare la nostra moto elettrica. Grazie. Grazie.